Dottore Provenzano, lei è il nuovo primario dell'unità complessa dell'ospedale di Petralia Sottana, prende il posto del dottor Cottone, ma dobbiamo comunque sottolineare che non lascerà e non trascurerà il nosocomio di Partinico. Allora, si tratta, come avete detto bene, di un incarico ad interim. Interim significa quella sorta di incarichi, secondo l'articolo 18, col quale il direttore generale dell'azienda, su un posto vacante, ti dà l'incarico di andare a ricoprire momentaneamente quel posto. Quindi, in maniera molto sintetica, io mantengo quello che faccio, quindi nell'ospedale di Partinico dirigo la medicina, il pronto soccorso, la diabetologia, mi occupo della diabetologia provinciale. Il direttore generale però mi ha voluto affidare anche questo incarico, cioè di dirigere questa unità complessa di medicina e di pronto soccorso di Petralia. Il dottore Cottone, che è un aiuto, non è primario, ha stato dato però l'incarico di portare avanti, lo ha fatto in maniera brillante, per un bel po' di tempo, per oltre tre anni, di portare avanti questa struttura, per motivi, diciamo, amministrativi, ha dovuto lasciare questo ruolo, ritornando a ricoprire quello che è il ruolo, cioè di aiuto di medicina. È chiaro che lì è un problema di natura, ripeto, semplicemente amministrativo, nell'attesa che si facciano questi benedetti concorsi e venga nominato il nuovo primario. Quindi nell'emore di questo io, ovviamente avvalendomi della collaborazione dei colleghi di Petralia, della medicina e del pronto soccorso, cercherò di portare il mio contributo anche nella direzione di queste strutture. La cosa bella che devo dirvi è che io mi sono insiedato sabato e ad aspettare il mio arrivo c'era persino il sindaco di Petralia Sottana, c'era l'amministrazione, hanno mandato comunicati i sindaci delle Madonie, quindi diciamo che l'accoglienza è stata veramente bella per un cittadino di Partinico che vuole rimanere, loro lo sanno, a fare il proprio lavoro nella propria città, come ho fatto in questi anni, ma che in questo momento si presta a dare anche un contributo a questa struttura. Guardate, la struttura è una struttura bellissima, un ospedale meraviglioso, si trova però nella parte più lontana della provincia di Palermo, ma che si trova anche a contatto con alcune zone, mi riferisco a Enne e a Caltanissetta, dove esistono tanti bambini che noi continuiamo a seguire. Quindi l'obiettivo immediato, devo dire, se ci riesco, è quello di creare anche a Petralia una struttura satellite di abiotologia. Ne ho parlato già col direttore generale che è d'accordo a fare in modo che anche per questi cittadini dell'estrema provincia di Palermo ci sia la possibilità in loco di poter usufruire di quello che è noi, di quello che è il know-how, di quello che facciamo in diabetologia. Quindi rimango a fare il mio lavoro. Ovviamente le difficoltà, la distanza, cercheremo di coprirla anche con tecnologie avanzate. Io ho detto ai miei medici che ogni mattina faremo un briefing via Skype, periodicamente sarò lì, quindi il lavoro potrà essere gestito tranquillamente. Quindi possiamo, dottore, rassicurare i cittadini di Partinico perché lei non abbandona il suo paese e perché tanto ha creato all'interno di questo ospedale. Infatti da un anno il reparto di diabetologia e di medicina fanno parte integrante dell'Università degli Studi di Palermo. Vediamo in che modo. Questa è una delle cose veramente che mi inorgogliscono e che mi fanno sentire uguale alla gente per bene di Partinico che cerca di costruire l'immagine di questo paese. Da un anno, appunto, con un decreto del Ministero della Salute, del Ministero della Ricerca Scientifica, la nostra unità operativa, per le caratteristiche che ha di centro regionale di riferimento, è diventata a far parte della scuola di specializzazione in endocrinologia. Quindi l'Università di Palermo, la scuola di specializzazione, di fatto è co-gestita, è gestita assieme a noi. Di fatto io, ormai sono entrato a far parte nella qualità di responsabile del centro di riferimento, divento di fatto, sono diventato da un anno a far parte dell'organico dei professori universitari della scuola di specializzazione in endocrinologia. Una bella notizia perché, ripeto, ci dà la possibilità di formare i prossimi specialisti in diabetologia e in endocrinologia, formarli anche all'interno di questa struttura, di questa città, che, badate bene, io non ho mai voluto lasciare. Io ho avuto la possibilità di incarichi prestigiosi negli anni passati. Io sono sempre rimasto legato alla mia città. Diciamo che neanche le bombe, se mi posso permettere, possono riuscire a mandarmi via. Io resterò qua, porterò avanti questo lavoro. E certamente quest'altra possibilità, cioè l'avere noi, a parte NICO, metteremo la tabella, ancora non l'abbiamo fatto, di scuola di specializzazione in endocrinologia. Quindi questa struttura è sì Asp di Palermo, è anche centro regionale per la Sicilia, unico per la tecnologia, ma è anche, ormai da un anno, scuola di specializzazione in endocrinologia. Guardate, la stessa opportunità, non a questi livelli, ma a livello di formazione degli specializzanti, l'abbiamo avuto con la divisione di medicina. La divisione di medicina rientra a far parte dell'università, ecco qua la circolare, cioè nel reparto di medicina, che ovviamente è qui tante abbiamo creduto in questi anni, una medicina bella che si occupa delle patologie generali, avremo gli specializzanti in geriatria dell'Università di Palermo, quindi un bel salto per questo ospedale, su cui magari nessuno puntava erroneamente. Questa è una bellissima struttura ospedaliera che offre servizi di alto livello. Basta vedere quello che vi sto dicendo e basta andare a vedere, mi permetto di far vedere, perché sapete con le chiacchiere se ne fanno tante chiacchiere, ma le carte sono quelle importanti, i numeri in particolar modo. Questa è una delibera della nostra regione, una delibera del 21 settembre 2018, invito i cittadini che mi seguono ad andarla a vedere. Questa delibera fa vedere il numero di accessi ai pronti soccorsi della regione Sicilia. Questa delibera, a pagina 54, ci sono scritti i vari pronti soccorsi siciliani. Allora, la delibera distingue le grandi strutture, mi riferisco all'ospedale civico, all'ospedale di rilievo nazionale, ovviamente le università, quindi strutture grandi, cosiddette. Poi parla di strutture medio-grandi, cioè parliamo di strutture, cioè che hanno un accesso, un numero di accessi enorme, e guardate, l'ospedale civico di Partinico rientra fra le strutture medio-grandi. Tra le strutture invece medio-piccole e fra l'altro distanziate, potete vedere che c'è l'ingrassia. Quindi ancora una volta, non è la guerra fra poveri, ancora una volta per dire che nella scelta, nella scelta, nella volontà di fare andare avanti le strutture ospedaliere dell'Aspiti Palermo, forse se qualcuno guardasse meglio le carte e i numeri, si renderebbe conto che questa struttura è una struttura di grande prestigio per quello che si fa in questo ospedale. E quello che si fa, non è solo quello che faccio io con la medicina, ma è quello che fa il dottore Sciortino con la chirurgia, con un grandissimo impegno. Quello che si fa negli altri reparti, la bellissima cardiologia che abbiamo e potremmo continuare con quello che in ospedale viene fatto. Non ultimo, e per ultimo, guardate, avere creato già un congresso nazionale 15 giorni fa, cioè avere organizzato un congresso che ha visto tutta l'Italia che è venuta a Palermo, capitale della cultura, per seguire i nostri lavori. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, questo lavoro è stato fatto grazie all'aiuto della popolazione che ha creduto in noi, della gente che si rivolge a noi con grande affetto dei tanti bambini che noi abbiamo. Sarebbe, dovrei essere diventato quantomeno pazzo, ma pazzo furioso a permettere a qualcuno che io lasciassi questo, che è un piccolo gioiello sanitario. La mia opera va anche generosamente verso le petralie, un bel territorio, lì cercheremo di dare know-how, di dare quello che si potrà fare, per carità. nessuno di noi è padre eterno, ma ovviamente il lavoro che ho fatto qua è un lavoro che continuo, continuo con i miei medici. Adesso l'avventura che ci aspetta, la più bella, è creare, come sapete, la Regione ci ha individuato come centro per la cura del piede, quindi nascerà nella storia della sanità siciliana la prima unità operativa di cura del piede diabetico, quindi lì l'altra sfida che mi aspetta, che aspetta me e i miei medici, di fare nascere una struttura che sia competitiva, avveniristica, che possa finalmente debellare un triste traguardo che ha la Sicilia, cioè il traguardo delle maggiori amputazioni di piede diabetico. Noi metteremo la faccia, anche qua ci impegneremo, faremo in modo che, come già lo è, che questo ospedale diventi il fulcro della cura del piede diabetico, come in questo momento l'ospedale di Partinico, lo dico senza ombre di smentite, in Italia, in Italia, ormai conosciuto come un ospedale in cui si fa della buona diabetologia. Pensate quanto sarebbe folle, assurdo, che io possa fare, mettermi da parte in questa, in questa struttura meravigliosa che abbiamo contribuito a creare. Forse a qualcuno farebbe comodo, ma certamente sono quei qualcuno che hanno voglia di sfasciare, non la buona parte della gente che è vicina a noi. a noi. a noi. Grazie a tutti.